Il nostro immaginario collettivo, quando noi pensiamo alla Quaresima, ovviamente lo pensiamo come un tempo mesto, un tempo in cui c'è la penitenza, in cui c'è il raccoglimento, c'è il silenzio, c'è il deserto. Le luci sono soffuse, non c'è il sole. Il sole è la Pasqua, il tempo di Pasqua, il tempo luminoso, quando nella notte di Pasqua, entrando al buio nella Chiesa, il diacono canta Lumen Christi, Deo Grazias, questa è la luce di Cristo, rendiamo grazie a Dio per tre volte, finché tutta la Chiesa non si riempie di luce e cantiamo l'Exultet, che è l'inno che celebra questa luce di Pasqua che sfolgora in quella notte, in quel buio. Tutta la Quaresima è un tempo crepuscolare, un tempo in cui non c'è ancora pienamente la luce. Allora perché l'incursione di questo Vangelo? Perché la liturgia mette il racconto della trasfigurazione? Io credo che l'indicazione sia di un simbolico pazzesco e utile anche alla vita di ciascuno di noi, perché quando Gesù prende questi suoi amici, Pietro, Giacomo e Giovanni, noi sappiamo essere i suoi amici, cioè quelli con cui lui è riuscito a costruire una sorta di relazione profonda, preferenziale. Ecco, questi suoi migliori amici un giorno se li porta con sé su un alto monte, sappiamo essere il Tabor. Su questo alto monte avviene la trasfigurazione, ma sia Pietro che Giacomo che Giovanni non riescono a collegare l'esperienza di quel giorno con il resto della loro vita, non riescono a capire che cosa c'entra quella scampagnata con gli effetti speciali a cui hanno assistito. Anzi, sono un po' intontiti da quello che accade. Salgono lì, forse salgono perché dovevano passare un po' di tempo insieme e accade qualcosa di traumaticamente bello. Gesù si mostra nella sua divinità. Nel Vangelo non trova parole migliori per dirci che si mostra con la sua divinità se non parlandoci di questa sua trasfigurazione, di questa esperienza di luce. Ma davanti a questa esperienza di luce Pietro e Giacomo e Giovanni non comprendono, non capiscono perché in quel momento della loro vita devono fare questa esperienza di luce. Perché? E soprattutto che cosa serve fare questa esperienza di luce quando scendendo da quella montagna, perché Gesù a un certo punto li porta giù da quella montagna, dice di non parlare a nessuno di quell'esperienza, di non condividere con nessuno questa sorta di esperienza di luce. Ed è bello come per descriverci la luce Marco ci dice le parole che sentono. Questi è il figlio mio l'amato, ascoltatelo. Ecco questa è la luce, sentirsi di qualcuno e sentirsi amati. Quando tu ti senti di qualcuno e ti senti amato questa è la luce, questa è la luce che segna la tua vita in maniera indelebile. Questo paradossalmente ti mette nella situazione di poter ascoltare. Le persone che non riescono a sentirsi addosso questa appartenenza e questo amore non hanno tempo di ascoltare perché passano la vita a difendersi, ad essere arrabbiati, a metterla a paragone, a mettere a paragone la propria esistenza con quella degli altri, a spiare la vita degli altri, a difendersi dal male che c'è intorno a loro. L'amore e l'appartenenza creano uno scudo dentro di noi, rendono possibile un'esperienza luminosa di amore. È bello poter pensare che a volte il Signore ha nascosto luce in posti inimmaginabili. Dico forse, forse chi avrebbe dovuto amarci forse non ci ha amato, ma questo non significa che il Signore non ha trovato comunque un modo di far arrivare l'amore dentro la nostra vita. È arrivato di sguincio, di striscio da un'altra parte, è arrivato imprevedibilmente da una situazione che neanche potevamo immaginare, ma è ingiusto quando noi pensiamo che la nostra vita sia solo buio. Forse c'è tanto buio dentro la nostra vita e ci sono solo piccoli pezzettini di luce, eppure vale la pena vivere proprio per questi pezzettini di luce. Il viaggio di questa nostra esistenza è un viaggio nella penombra di situazioni che non capiamo, è un viaggio nel mistero, ma è un viaggio nel mistero che possiamo vivere solo e soltanto se coltiviamo la memoria della luce. La speranza cristiana è tutta nascosta qui. A volte per carattere siamo più ottimisti, ma a volte per carattere siamo anche più pessimisti, ma la speranza cristiana non ha a che fare col carattere, non ha a che fare con l'ottimismo o col pessimismo, ha a che fare con la lealtà. La speranza cristiana è essere così leali da ammettere qual è stata la luce che il Signore ci ha regalato in quel momento della nostra vita e l'ha messa lì appositamente perché ci salvasse un giorno l'esistenza. È bello poter pensare che la Quaresima ci chiede di esercitarci in tutto questo, è bello poter pensare che per poter capire la croce dobbiamo essere capaci di luce. E finché non impariamo questa lezione? Credo che anche Pietro e Giacomo ci hanno messo un po' più di tempo, a differenza di Giovanni, il discepolo amato, perché Pietro e Giacomo in quell'esperienza di buio sono fuggiti via. Giovanni invece si trova sotto la croce. Il discepolo amato ha un legame che gli permette di stare lì sotto la croce proprio nel momento più decisivo della vita di Gesù, che è il suo sacrificio estremo. Ognuno di noi non deve avere paura se a volte non è capace di essere così nella propria esistenza. Neanche Pietro lo è stato, neanche Giacomo lo è stato, neanche gli altri apostoli lo sono stati. Lo sono stati uno sparuto numero di donne, tra cui Maria, è un unico discepolo, il più piccolo, l'adolescente Giovanni. Non dobbiamo meravigliarci se a volte le cose le impariamo per tentativi, ma arriverà il momento decisivo della nostra esistenza in cui la battaglia, che sarà quella più importante, ci troverà pronti o non preparati, ma questo dipenderà da quanto ci siamo esercitati. Ecco, in tempi di pandemia, in tempi di buio globale, noi dobbiamo portare la testimonianza di credenti perché sappiamo rintracciare in tempi così difficili motivi per poter affrontare questa prova, motivi di luce, motivi di gratitudine, motivi di fraternità, motivi di solidarietà, motivi che cambiano la nostra vita perché invece di pensare ognuno a sé, riusciamo a tenere gli occhi anche sugli altri. Il Papa ha coniato questa frase che credo rimarrà nella storia della Chiesa, soprattutto per interpretare questo momento della nostra storia. Nessuno si salva da solo, o ci salviamo tutti o non si salverà nessuno. Non è forse questa la memoria della luce? Noi che siamo una società individualista, aver riscoperto il valore del noi, non è questa una lezione di luce che ci nasce dal buio? Insomma, abbiamo tanti motivi per cui imparare la trasfigurazione, imparare questa luce prepasquale in tempi di quaresima.